Sassari si prepara alla farada del 14 agosto. Come sempre in città si aspetta questo momento con trepidazione, soprattutto dopo i due anni di covid in cui la discesa dei candelieri ha subito forti restrizioni. Oggi iniziano ufficialmente le manifestazioni che precedono la farada con la discesa dei mini candelieri, un'iniziativa che vede i giovani portatori, tutti nati dopo il 2009, impegnati nell'allestimento del piccolo candeliere già da qualche settimana e che stasera faranno danzare il cero lungo il percorso che da porta a Sant'Antonio arriva a Santa Maria. Un tragitto più breve rispetto a quello dei candelieri grandi ma non meno impegnativo, diverso chiaramente anche il peso del cero ma per il resto la discesa dei piccoli candelieri è identica a quella del 14 agosto. La partenza è prevista per le 18, quasi 200 bambini e ragazzini sono pronti a far danzare il piccolo cero e a dare così il via alla feglia manna e allora a cent'anni.